Il prossimo 14 agosto entrerà in vigore il nuovo codice della crisi d'impresa con il quale saranno disciplinate unitariamente le procedure che hanno come obiettivo la soluzione della crisi o dell'insolvenza sia dell'imprenditore che del debitore civile sovraindebitato. È una riforma che rinnova completamente in profondità, in maniera sostanziale ma anche lessicale, cambiano proprio le terminologie, quello che è l'istituto del fallimento. Questa nuova norma in particolare prevede l'istituzione presso la Camera di Commercio di un organismo che si chiama OCRI, Organismo Composizione Crisi d'Impresa, che con la collaborazione degli ordini professionali, degli avvocati, dei commercialisti, dei consulenti del lavoro, sarà chiamato, ove possibile, a tentare il risanamento di situazioni aziendali, diciamo compromesse, dove c'è uno stato anche temporaneo di insolvenza, cercando di avviare una trattativa con gli istituti di credito, con i creditori, per superare l'impasso dell'insolvenza temporanea. Arezzo Sviluppo ha così organizzato un corso dal 14 novembre al prossimo 7 febbraio sul nuovo diritto fallimentare propedeutico alla formazione dei componenti dei futuri OCRI. Il gestore della crisi si occuperà di trovare una ristrutturazione nell'ambito della crisi dell'impresa degli imprenditori che si trovano in difficoltà. Si tratta di formare questa nuova figura professionale e abbiamo predisposto questo corso in collaborazione anche con gli ordini professionali che lo hanno accreditato, l'ordine degli avvocati, dei commercialisti e dei consulenti del lavoro. A mio avviso questa nuova riforma, se si riuscirà a farla funzionare nel modo come è previsto, produrrà un cambiamento culturale, perché non sarà fatto di tutto in tempi giusti, in tempi preventivi per evitare la distruzione dell'impresa, cosa che è accaduta ormai e accade da molto tempo in Italia. Potrà eliminare le bancarotte, potrà eliminare effetti negativi anche sotto il profilo penale, perché l'allerta verrebbe valutata e presa in considerazione in tempo. Nel corso del 2018 sono stati aperti in tutto al registro delle imprese 567 eventi di procedure che riguardano le aziende del territorio provinciale e aretino, meno un per cento rispetto al 2017. La maggior parte sono stati scioglimenti e liquidazioni, 65 complessivamente i fallimenti aperti. I settori in cui si ha il maggior numero di fallimenti sono il manifatturiero, le costruzioni, il commercio e i servizi alle imprese, tutti però in netto calo rispetto all'anno precedente.